Negramaro, basta così, ecco il nuovo video. Basta Così è il titolo del nuovo singolo dei Negramaro, che segna ancora una volta una nuova collaborazione con Elisa. Basta Così è strato dall'album Casa 69 e accompagnato da un video il cureggista, il giovane Paolo Marchione. Il video, pubblicato in anteprima esclusiva sul sito della Repubblica, è stato girato su una terrazza di una grande città. Sarà proprio qui che si incontreranno sotto un forte temporale un ragazzo e una ragazza che si saluteranno per l'ultima volta. Nel video la pioggia accompagna l'ultimo incontro della coppia, che insieme al brano molto intenso, crea un'atmosfera così incredibile che sembra quasi che la scena stia avvenendo in un luogo sconosciuto e deserto. I Negramaro stanno per ritornare con il loro Casa 69 Tour dopo una pausa forzata a causa del dedicato intervento alle corde vocali subito dal leader della band Giuliano Sangiorgi. Lo stesso cantante di recente è apparso nel corso di un concerto di Elisa per il suo primo ritorno sulla scena dopo l'intervento. Sangiorgi ed Elisa hanno proposto al pubblico presente alcuni brani, tra i quali ti vorrei sollevare e basta così. Il prossimo giugno i Negramaro si esibiranno live sul parco dell'Heineken Gaming Festival, mentre qualche mese dopo prenderà il via il Casa 69 Tour. Il prossimo giugno i Negramaro si esibiti al pubblico presente alcuni brani,